Grande successo per la Gran Fondo Stracca Bike a Prato Vecchio in provincia di Arezzo valida come prova di Coppa Toscana. Un percorso molto bello ed impegnativo di 47 chilometri e 1500 metri di dislivello. Partenza dal centro di Prato Vecchio e subito in salita la lunga ascesa verso il Gran Premio della Montagna. Dopo i primi chilometri parte la fuga di Riccardo Chiarini, Taddei Factory. A rispondere è Samuele Giuseri, PS Cycling Team, in seconda posizione che ha alle sue spalle Marco Galeotti del Tutto Bike. Più indietro ci sono Lorenzo Pierpaoli e Matteo Spinetti. Dopo due ore 13 minuti e 20 secondi il primo a transitare sotto lo striscione d'arrivo di Prato Vecchio è Riccardo Chiarini, Taddei Factory, che fa sua la 31esima edizione della Gran Fondo Stracca Bike e si lascia alle spalle. Samuele Giuseri, eccolo tagliare il traguardo proprio in questo istante, l'atleta del PS Cycling Team e ottimo terzo posto per Marco Galeotti del Tutto Bike Team. Podio maschile quindi con Marco Galeotti tutto Bike al terzo posto, Samuele Giuseri del PS Cycling al secondo e il vincitore Riccardo Chiarini del Taddei Factory. Per la gara femminile va a vincere la toscana del Taddei Factory Silvia Scipioni, seguita in seconda posizione da Elena Teoni dell'MTB Race Subbiano e Daniela Stefanelli del Team Cingolani che giunge terza.